bentornati amici di army magazine oggi proviamo la nuova canic tp9 sfx rival in calibro 9x21 trovate la prova di questa canic nel numero di marzo di army magazine in edicola dal 16 di febbraio vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social facebook youtube instagram per non perdere nessuna delle nostre prove future prima di misurare il peso di sgancio controlliamo che la pistola si effettivamente scarica quindi abbiamo caricatore in mano camera di cartuccia vuota possiamo procedere con una media di 5 misurazioni peso di sgancio dello scatto è di 1455 grammi la canic sfx rival ha una dotazione di serie davvero completa partiamo dalla dall'arma a un caricatore e viene fornita questa fondina in kydex con il con il logo rival c'è un secondo caricatore con il relativo carichino il caricatore è da 18 colpi ed è prodotto dalla mcgar di gardone valtrompia ok la dotazione però continua sull'altro lato della della valigetta perché abbiamo un kit per la pulizia un cacciaspine due dorsalini di ricambio e all'interno di questa piccola pistola sono inseriti due pulsanti di sgancio del caricatore di diversa altezza la rival è la una variazione della sfx che avevamo visto in passato presenta della una colorazione grigia data da questo rivestimento in serratoc appunto grigio proprietario di canic l'impugnatura è polimerica con questa presa buzza questa texture a buccia d'arancia molto grippante efficace presente anche sulla porzione anteriore a completamente ambidestra sul fronte delle sicure non c'è la sicura manuale ma c'è quella automatica al grilletto che ha una faccia piatta quindi molto comodo da utilizzare perché il dito si appoggia con naturalezza e c'è la sicura automatica al percussore mire abbiamo tacca di mira regolabile in derivazione e in altezza e mirino con un tratto di fibra ottica rossa il carrello è fresato sia nella parte superiore per lasciare spazio alla canna per per raffreddare più rapidamente e per alleggerire il carrello allo stesso tempo sia sui lati con queste due aperture la canna presenta una rigatura longitudinale abbiamo la tratto di slitta piccatini per il montaggio di accessori ottici e nel carrello gli intagli di presa sono presenti sia al posteriore che nella parte anteriore e anche in questa porzione finale vicino alla volata in dotazione c'è anche questa minigonna con il logo canic che può essere montata e abbinata al ai caricatori con un fondello maggiorato per consentire anche una presa più agevole come su molte semiautomatiche moderne polimeriche moderne abbiamo la possibilità di montare un punto rosso qui al posto della della tacca di mira e il caso il carrello è fresato in questa in questo punto e si può inserire una delle quattro basette in dotazione da scegliere a seconda del punto rosso di cui si dispone e e e e e e e e Siamo venuti oggi all'Oklahoma Camp di Uboldo, abbiamo provato questa Canic Rival, è una pistola molto maneggevole, molto pratica, presenta una canna da 5 pollici, ha un bello scatto e il reset è molto corto, è un reset di 2 mm e mezzo. Personalmente trovo che la minigonna agevoli molto nel cambio caricatore, soprattutto in movimento perché non guardandola si riesce ad inserire facilmente. Questo nuovo allistimento della Canic TP9, la Rival, è appariscente e allo stesso tempo elegante perché questo grigio è piacevole, gradevole, con questo stacco offerto dalle parti dorate che risalta molto. L'offerta di serie è davvero ricca, come abbiamo visto, come da tradizione Canic in realtà, e quindi rende ancora più appetibile l'arma. È proposta a un prezzo di 1.250 euro che è leggermente più alto rispetto allo standard delle Canic che abbiamo visto finora, ma la lavorazione del carrello e alcuni dettagli giustificano pienamente questa cifra. Veniamo ora alla pagella di Army Magazine. Alla voce precisione diamo un voto 5 su 5 perché la canna da 5 pollici rende quest'arma molto precisa e in ciò aiutano molto le mire che sono di tipo sportivo regolabili e quindi si riesce ad essere molto precisi sul bersaglio. Voce tiro in movimento, voto 4 su 5. Non ha il massimo dei voti perché essendo una polimerica non ha la controllabilità che offrerebbe una tutto acciaio. Comunque si è comportata bene come avete potuto vedere nel video e direi quindi la sufficienza piena. Infine la voce ergonomia, voto 5 su 5 perché la dotazione consente di ritagliarsi questa Rival perfettamente sulla propria mano, cioè sia col dorsalino che i pulsanti di sgancio di diverso spessore e anche con la minigonna per riuscire a avere un'impugnatura ancora più salda. In ciò aiutano parecchio anche le due leve dell'Old Open che sono maggiorate rispetto alla prima generazione della SFX. In conclusione il voto complessivo di questa Rival è 4,5 quindi una votazione molto buona per questa pistola turca. E come al solito vi ricordiamo non esistono armi scariche, proteggere sempre occhi e orecchie e dito fuori dal grilletto finché non si intende sparare.